Chissà dove saremmo arrivati se avessimo puntato alla precisione, invece di accontentarci di quelle nostre astrazioni desideranti. Avevamo così forte nelle viscere il malessere del mondo agonizzante che se ci fossimo armati di esattezza forse ne avremmo deciso noi le sorti. Ma ci bastava il linguaggio contorto e oscuro delle nostre emozioni. Uno dei nostri giornali ora titola così la rivoluzione è finita abbiamo vinto. È il pensiero più lucido di quella stagione ma pensare la fine con lucidità è biologicamente impossibile. Puoi enunciarla, puoi pensare che dovresti pensarla, puoi avvicinarti come fanno i matematici allontanandosi in realtà a distanze siderali, inserendo fra il pensiero e l'impensabile infiniti pensieri sempre più piccoli e ognuno di questi pensieri dice che arrivarci è impossibile. Siamo di fronte alla fine, motore di ogni mercato, virtù delle banche, la cuna delle utopie. Il denaro nei suoi canali immateriali conosce le ragioni del tramonto e sa metterne a frutto le risorse. Noi inadatti alla rivoluzione perché il luogo della rivoluzione è l'infinito, il futuro, sogno da figli dei fiori in tempo di benessere svanito. Noi passeremo dal potere infinito della nostra adolescenza carnale all'infinita frustrazione che muove al consumo di sé o di merci e di vite come merci, vite di morti persi in grovigli di ribellione, furti d'appartamento, droghe pesanti, pistola, delusione o carriera. Alcuni finiranno per decidere che sopravvivere significa emergere, schiacciare, tagliare, votati infine alla regola della supremazia naturale, partiti da lontano per approdare al fascismo elementare della vita vissuta come un diritto del migliore, del più forte, della più bella. Di qui a pochissimo tanti di noi parleranno come gangster, orgogliosi d'essere entrati nel mondo degli adulti, gli ho fottuto la donna, sua madre è piena di soldi, facciamogli l'appartamento, hai pulito la baiaffa, oggi si spara, è un frocio, non ha le palle, deve morire.